Un buongiorno a tutti da Luke65, il video di oggi è dedicato ai fumetti. Diciamo che si parlerà di un personaggio in particolare, ma si parlerà anche di tutto quello che si scatenò intorno a lui e ad altri personaggi, di quello che si scatenò soprattutto negli Stati Uniti, e credo che abbia avuto anche un riverbero in tutti gli altri paesi europei. Allora, innanzitutto il personaggio di cui parleremo oggi è Spawn, il personaggio che credo sia conosciuto da molti, ma non da tutti. Il personaggio che nasce nel 1992 dalla matita di Todd McFarlane, un disegnatore canadese, che all'epoca, che qualche anno prima lavorava per la Marvel, per la Marvel, e aveva portato ai fasti l'attestata a mezzo in Spider-Man, dando la sua interpretazione dell'uomo ragno, o Spider-Man che dir si voglia, per me, l'uomo ragno, dando la sua interpretazione dell'uomo ragno, ipercinetico, con pose mai viste, all'interno del fumetto, pose ragnesche mai viste, ragnatele super mega dettagliate, intricatissime, insomma, era veramente la rappresentazione di come potesse essere un ragno, vero, con un costume da uomo ragno, posizioni anche non anatomicamente corrette, diciamo che il suo disegno era abbastanza grottesco, i visi dal fanciullesco anche lì, quindi per i puristi del disegno come me, i puristi del disegno come me, storcevano il naso, ma ammettevano che il suo disegno era funzionale, le sue storie erano godibili, diciamo che chi come me amava l'iperrealistico si innamorò comunque dello Spider-Man di McFarlane e in seguito dello Spawn di McFarlane, perché si dice ci sono varie categorie di bello, anche quello che esce dai canoni, diciamo, Leonardeschi per così dire, e quindi portò i fasti a Amazing Spider-Man con le sue anatomie strane, con i suoi visi non realistici per una certa un certo humor un certo disegno grottesco era funzionale, fece successo, disegnò la saga del nemico di quel periodo Venom dandone una sua interpretazione fantastica e di lì in poi diciamo che rivoluzionò il modo di fare fumetto, ma non solo a livello grafico. e qua bisogna fare un salto all'indietro. Noi ragazzi degli anni 70 che leggevamo Tex, Zagor, Diabolic, Disney, a seconda delle varietà, fondamentalmente non conoscevamo nulla di chi disegnava il fumetto in sé. Quindi noi siamo cresciuti per anni, senza sapere che ci fosse dietro la matita di Zagor, dietro la matita di Tex, dietro la matita di Diabolic, dietro la matita di Topolino, Paperino, eccetera, eccetera, tutti i fumetti che c'erano all'epoca. Perché all'epoca non era ad uso mettere in copertina come fanno oggi i coloristi, quelli che fanno i dialoghi, il ballon e soprattutto i disegnatori. Quindi per anni non abbiamo saputo chi fosse Carpi, chi fosse Bottaro, chi fosse Cavazzano, chi fosse Villa, chi fosse Ferri, chi fosse Venturi, chi fosse Mangiantini, chi fosse Dall'Agnol, chi fosse Stano, chi fosse Roy, eccetera, eccetera, eccetera. In America c'erano ma avevano un problema. In America i disegnatori c'erano ma avevano un problema che probabilmente c'era anche qua in Italia. il lavoro dei disegnatori innanzitutto non arricchiva, arricchiva soltanto la casa editrice e questa cosa dava fastidio perché i due colossi facevano miliardi con i personaggi alle volte anche inventati dai disegnatori e prendevano un sacco di soldi anche dal merchandising. Quindi qualcuno pensò che questa cosa non fosse giusta ma i colossi che all'epoca spadroneggiavano ovviamente Marvel e DC facevano il bello e cattivo tempo finché Todd McFarlane e altri disegnatori rampanti dell'epoca che disegnavano sempre alla Marvel o da altre parti Larsen Jim Lee eccetera eccetera e lui fondarono una casa editrice chiamata Image indipendente e si staccarono tutti quanti come disegnatori autonomi al di fuori della Marvel e della DC ed ebbero un successo megagalattico perché ognuno disegnò personaggi diversi Todd disegnò Spawn un personaggio che aveva pensato da tanti anni Larsen disegnò Savage Dragon Jim Lee disegnò credo i Wildcats e roba del genere erano già conosciutissimi dal pubblico amatissimi e si portarono quindi tutte le schiere di fans a comprare i loro fumetti che diventarono i più venduti per una casa indipendente addirittura il primo numero di Spawn o uno dei primi numeri di Spawn ha in copertina uno Spawn esattamente nella stessa posizione in cui lui aveva disegnato la copertina dell'uomo ragno cambiava soltanto il costume è leggermente l'ambientazione circostante aveva fatto deflagare la bomba che poi avrebbe portato i disegnatori a vincere la causa gli sarebbero stati riconosciuti i vari diritti d'autore la possibilità di riavere le loro tavole le loro tavole perché in fondo in fondo la tavola originale perché dovrebbe essere di proprietà della casa editrice e non del disegnatore che l'ha fatta che se la potrebbe anche vendere in modo da fare anche qualche soldino perché diciamo non è che fino a quell'epoca i disegnatori morivano poveri da lì in poi diventarono star grazie anche a Todd e gli altri e soprattutto grazie al successo di Spawn e qua ovviamente poi Todd fondò una linea di merchandising che sfondò in tutti i sensi perché bisogna dirlo le sue action figure quando arrivarono negli stand e io le ebbi tra le mani e dissi non ho mai visto niente di più bello perché eravamo abituati alle varie statuette sfornate da altre case che erano sempre con difetti facce brutte occhi che magari non erano proprio quelli del personaggio costumi colorazioni un po' così lui mandò fuori delle action figure che facevano impazzia erano dettagliatissime bellissime in ogni in ogni minimo dettaglio da lì in poi poi fece i giocatori di baseball le statuette di Elvis Presley insomma qualsiasi cosa lui sfondò in tutti i sensi diventando ricco credo si possa dire che diventò ricco e Spawn diventò un fenomeno americano e anche italiano con un sacco di lettori e qua torniamo al personaggio che è stato la bomba che ha fatto diciamo cambiare qualcosa al punto da far dire a nella prefazione nell'introduzione del fumetto che questo personaggio e Todd diedono modo a anche a Frank Miller di dire che la storia finalmente era cambiata chi è Spawn? Spawn è un mercenario che muore in una missione viene ucciso e ritorna sulla terra perché poi anche le tematiche di Spawn riprendono un qualcosa della vita Marvel DC ritorna sulla terra facendo un patto con Malebolgia Malebolgia è un demone infernale il nome preso dall'inferno di Dante le Malebolge da questo patto lui ritorna per vedere la moglie perché vuole rivedere la moglie e la figlia però non sotto forma di umana ma sotto forma di demone uno Spawn un guerriero a servizio dell'inferno delle armate dell'inferno perché in questo fumetto ci sarà sempre un imminente Armageddon in cui le armate del paradiso si scontreranno con le armate dell'inferno e qua ritornando in ambito in cui la cara Martina aveva detto il bene il male il bene il male cara Martina ti consiglio leggi di Spawn perché la sottile differenza tra bene e male qua è rappresentata benissimo e quindi uno potrebbe dire ha rappresentato l'inferno e il paradiso come la mar dell'Eladici può essere può essere perché infatti Spawn non accetterà di essere un guerriero al servizio dell'inferno ma sarà un essere indipendente da tutti e vivrà in mezzo ai dimenticati ai barboni da qua si dipanerà la sua saga la sua voglia di vita normale che non sarà mai appagata la sua guerra sia alle armate del paradiso che non sono buone sia alle armate dell'inferno che ovviamente non sono buone con una miriade di personaggi con una miriade di personaggi il clown che diventa Violetor il Redentore Angel insomma un insieme di personaggi variegati molto belli di cui saranno fatte svariate action figure bellissime e scopriremo che poi lui non è l'unico spawn della serie ci sono stati nei secoli passati spawn medievali spawn all'epoca di Attila insomma le armate tentano dell'inferno tentano di prevalere sugli angeli le armate sul paradiso le armate del paradiso tentano di prevalere sull'inferno in un'eterna lotta tra bene e male che non si sa bene dove non si sa bene quale sia il confine se sia il bene il paradiso o il male l'inferno perché l'intento è sempre lo stesso ci sarà una zona neutra in cui vivrà spawn perché spawn non accetterà di essere al soldo di nessuno quindi che cosa dire un fumetto che ha fatto deflagrare un problema reale che ha forse risolto a favore dei disegnatori un annoso problema che adesso è un po' diciamo dalla parte loro e gli permette di poter vivere di fumetti di poter avere delle carriere più gratificanti di non essere schiavi della pagina a tutti i costi un fumetto molto bello soprattutto diciamo adesso sono quasi 30 anni di uscite magari non tutti i mesi le volte anche bimestrali o trimestrali con qualche incursione anche nel mondo di sì tipo spawn contro batman insomma un fumetto che merita un personaggio notturno ovviamente non è un personaggio allegro non è un fumetto diciamo per bambini bambini ma sicuramente non è un fumetto diseducativo perché le cose diseducative sono altre quindi un fumetto che consiglio di leggere a tutti la saga di Al Simmons la sua caduta all'inferno la sua rinascita e la sua vita nel limbo a metà tra le armate del paradiso e le armate infernali spawn di Todd McFarlane un fumetto da non perdere un saluto dagli U65 5 5 Grazie.